L'intesa C.E. si chiamerà Alleanza Popolare per Cetraro a guidarla al sindaco facente funzioni dell'amministrazione comunale Ermanno Cennamo. Dunque si chiude il cerchio che vedrà l'altra faccia della medaglia della maggioranza uscente, quella capeggiata fino a qualche mese fa da Giuseppe Aieta, partecipare alla tornata elettorale di fine maggio. Nota a tutti che c'è stata una netta cesura del percorso politico degli ex Aieta, l'assessore Aita e il patto lontani anni luce da Cennamo, il PD e il centro-sinistra. A questa alleanza si aggiunge però il nuovo centro-destra, pertanto nell'ampio ventaglio della coalizione vedremo il PD, il DV, Progresso e Libertà, SEL, Rifondazione Comunista, API e Centro Democratico. L'obiettivo della nostra compagine è creare le condizioni favorevoli per la crescita economica e sociale di Cetraro, a dirlo il candidato sindaco del cartellone elettorale ed ex vice di Aieta, Ermanno Cennamo. C'è anche una base di programma e di manifesto che gli elettori potranno valutare. In questa nuova fase rivolgeremo l'attenzione ai problemi strutturali del suolo con la realizzazione di reti idriche e fognarie. Si farà prevenzione per l'emergenza irrogeologica con un piano delle acque da estendere alle periferie. Il porto sarà valorizzato, come saranno realizzate tutte le opportunità utili per favorire il rilancio del turismo, l'attrazione di imprese e l'intercettazione di finanziamenti europei. Ogni cosa avverrà nel pieno rispetto della legalità riba di Cecennamo. Insomma, concluso il candidato sindaco per Alleanza Popolare per Cetraro, abbiamo costruito un progetto che restituisca centralità ai partiti e affidi alla politica il compito di servire la comunità.